... la minoranza, perché non sarà un problema solamente dell'attuale minoranza, eventualmente si potrà essere un problema, perché chi andrà a dirigere la nuova società, che adesso sarà senza direttore, avrà un compito anche di proseguire oltre i tempi stretti dall'attuale minoranza. Volevo porre una domanda a tutti. Oggi pomeriggio la minoranza, sempre in merito alla faccenda del Capannone, presenterà addirittura un'interpellanza relativa alle dimissioni di tutto il Consiglio di amministrazione. Come replicate anche la luce dell'incontro che c'è stato in questi giorni a livello di Commissione consigliare? Direi che sono i fatti a rispondere e risponderanno all'interpellanza, anche perché mi sembra che l'Itte sia avviata, sta andando in quello che è la giusta direzione, articolo di ieri, quindi una notizia di cui si può parlare, direi ufficiale, si sono ripresi i rapporti con la società San Michele che venderà il Capannone alla fine all'ambiente e ritirerà allo stesso tempo l'azione fatta nei confronti della stessa società, quindi direi nulla di fatto per quanto riguarda la minoranza. Poi vedremo in consiglio cosa uscirà. Grazie. 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 Grazie.